Paolo Veggetti, ingegnere, consulente Casa Clima, mi occupo di ottimizzazione energetica degli edifici in piantistica. Nel corso dell'intervento durante la settimana della bioarchitettura e domotica abbiamo parlato di una qualificazione di un edificio ad uso terziario, cioè una banca, un esercizio di stile in cui si è voluto far vedere in sostanza che si può riqualificare, si può agire sul patrimonio edilizio esistente. E quindi, diciamo, scelto un edificio molto energivoro con tantissimi vincoli e criticità, abbiamo fatto vedere nel corso della presentazione come si è posta attenzione a qualsiasi piccolo particolare per riuscire a ottenere quelli che erano gli standard richiesti, in questo caso del Passive House Institute. E quindi, come da un edificio edificato dai 30 ai 40 anni fa, siamo riusciti ad arrivare a un near to zero energy building, in sostanza. La preesistenza è ovvio che dà dei problemi sulla risoluzione di molti ponti termici, nel senso che non si può agire come si farebbe per un edificio nuovo. E per questa ragione diventa molto importante la fase progettuale e quindi l'integrazione fra i vari progettisti, il termotecnico, l'architetto, il progettista elettrico, per cercare appunto in fase ancora progettuale, appunto quando si sta ancora lavorando sulla carta, di andare a studiare nella maniera più precisa possibile e quindi risolvere diciamo le problematiche dovute al fatto che non si può ovviamente abbattere e ricostruire come si potrebbe fare in maniera facile.